In vista del prossimo Consiglio Comunale, che si terrà il 13 aprile alle 9.30 presso il Comune di Agropoli, non si è potuta svolgere la conferenza dei capigruppo perché non si è raggiunto il numero legale. La decisione è stata però contestata dai capigruppo Agostino Abbate ed Emilio Malandrino. La conferenza dà la possibilità ai consiglieri di opposizione di capire quali saranno gli argomenti e le azioni che si andranno a discutere in Consiglio Comunale. Contesto l'ennesima arroganza autoritaria concertata che si è verificata ieri sul Comune di Agropoli. E spiego perché autoritaria e perché concertata. La conferenza dei capigruppo è l'unica, e dico l'unica, possibilità che hanno i consiglieri di minoranza di poter dialogare con la Presidenza del Consiglio e di poter essere informati sugli argomenti che devono arrivare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o comunque su tutte le attività che il Consiglio Comunale sta per svolgere. Concertata perché? Perché questa conferenza dei capigruppi, quando io non ero appartenente a nessun gruppo, perché come consigliere singolo non mi toccava la partecipazione a nessun gruppo, dice che veniva sempre convocata. Adesso che invece io appartengo al gruppo misto, sono il capogruppo del gruppo misto, e il consigliere Emilio Marantrino è il capogruppo del gruppo Udc, viene convocata perché l'abbiamo espressamente richiesto, ma concertata perché gli altri capigruppo, e sono tre della maggioranza e l'altro della minoranza, non si presentano mai. Quindi è gioco facile per la Presidenza del Consiglio dire, mancando il numero legale, la conferenza non si tiene. No, assolutamente no, ieri ho contestato, perché poi ho sopportato fino a un certo punto, la conferenza dei capigruppi non è un organo consultivo deliberativo, ma è un organo prettamente informativo e consultivo. Quindi in mancanza di numero legale o la presenza del numero legale non ha alcun significato, basta anche un solo gruppo affinché il Presidente possa estrinsecare le sue funzioni, cioè informare quantitativamente e qualitativamente sui lavori che il Consiglio Comunale sta per fare. Invece no, categoricamente concertano la loro assenza, di conseguenza viene dichiarata deserta la seduta e non si dà inizio. Io ho contestato insieme al Consigliere Marantrino, che ha un altro capogruppo, vivamente ieri. Ho pregato quindi di iniziare il verbale e di scrivere a verbale le contestazioni nostre. Dopo tanto, tanto sudore, si sono permessi di scrivere a verbale quello che abbiamo detto, ma comunque è stata poi dichiarata deserta. Quindi al protocollo generale, ieri io e il Consigliere Marantrino abbiamo protocollato una richiesta al Prefetto, una richiesta di intervento. So benissimo che questa richiesta di intervento, molto probabilmente fatta al Prefetto, rimarrà assurda, rimarrà ancora una volta inascoltata, ma il mio dovere io lo faccio fino in mondo, così come l'ho fatto per quattro anni, lo continuerò ancora a fare per questo scorcio di consigliatura. augurandomi che il Prefetto prima o poi legga, oppure addirittura punisca me, se ritiene che io sia colpevole di aver esagerato. Faccia una decisione, insomma. Comunque anche il Prefetto deve avere una sua responsabilità. Secondo lei, per quale motivo gli altri capigruppo non si presentano alla conferenza? Perché concertano l'assenza, in quanto loro non amano il confronto. Hanno una cultura diversa dei lavori del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, per loro, è un motivo solo ostativo di perdita di tempo. Loro le consultazioni se li fanno in maggioranza, dicono, in dialetto cilentano-napoletano direi consultazioni a umma-umma, cioè si vedono fra di loro, dopodiché il Consiglio non ha più un motivo di resistere. È una mancanza di cultura del Consiglio Comunale. L'ho detto più volte e lo voglio ripetere se me ne dai la possibilità. Il Consiglio Comunale è una testa dell'amministrazione, il Sindaco è l'altra testa dell'amministrazione. E il Sindaco ha la duplice funzione di essere il capo dell'amministrazione, quindi capo dell'esecutivo. Ma è anche consigliere comunale, quindi partecipe ai lavori del Consiglio. Queste due espressioni elette dal popolo devono insieme dialogare per poter amministrare. Invece no, qui c'è la cultura praticamente che il Sindaco comanda, dispone e predispone e il Consiglio Comunale, ovvero i consiglieri di maggioranza, devono solo alzare la mano. È una cultura completamente diversa. È una cultura che ho combattuto per quattro anni da solo e che adesso sto combattendo per l'ultimo anno insieme ai consiglieri, Rizzo e Manadini, ma non abbandonerò mai. Io darò anche la vita per combattere questa cultura sbagliata. Per questa mia bella città lo farò comunque con tanto, tanto amore e tanta passione, ancora per questo scorcio di tempo che mi rimane, essere consigliere comunale. Grazie.